Eccoci, siamo qui con mister Simone Bragantini. Mister, purtroppo è arrivata una sconfitta, una sconfitta comunque che è stata condizionata da degli errori delle tue ragazze, non trovi? Beh, oddio, sì, dopo c'è anche un avversario. Se tu fai certi errori, perché magari l'avversario ti porta anche a farli. Oggi devo essere sincero, è stata una bella partita. Quando ci sono sette gol vuol dire che si gioca, non si sta lì tanto a fare calcoli. Quello che dispiace è che io pensavo che potevamo essere un po' più brillanti nella gestione della palla. Sì, è vero, gli errori sono stati fatti e hanno condizionato. Ma come poi siamo stati bravi a riaprirla fino all'ultimo minuto? Perché insomma sotto 4-2 si è riuscito a fare il terzo gol al novantesimo, credo. È avuto ancora un paio di minuti e ci siamo buttati avanti. Quello che dispiace è che secondo me certi tipi di cattiverie, quindi quella fuga agonistica, la si dovrebbe avere dal primo minuto. Quello è mancato oggi. Assolutamente sì, mister. Sicuramente le tue ragazze hanno cercato di rimettere in piedi la partita. Però cosa dovranno fare poi per le prossime giornate per riuscire a comunque ottenere risultati diciamo più positivi? Mi verrebbe dire evitare di fare certi errori. Molto semplice nel senso l'unico... No, ma noi dobbiamo solo continuare a lavorare tanto durante gli allenamenti. La partita non è altro che il frutto di come ti alleni, non è altro che il frutto di quello che tu provi durante la settimana, ma anche dal punto di vista tecnico. Se io devo imparare a stoppare la palla, vuol dire che durante la settimana mi devo mettere lì di guzzo buono e testa bassa e lavorare tanto. L'unica cosa che dobbiamo fare noi è continuare a lavorare, lavorare tanto ed essere anche consapevoli che se stiamo con la testa lì per 95 minuti, se arriviamo cariche pronte già il sabato mattina quando facciamo la rifinitura, e allora forse la partita diventa un po' più, non dico semplice, però un po' più dalla parte nostra. Noi dobbiamo imparare quello. Noi siamo ancora una squadra che secondo me non è maggiorenna. E quella è la grossa cosa che dobbiamo metterci in testa. Noi non siamo una squadra maggiorenna, siamo una squadra che è ancora adolescente e che sta crescendo. Però comunque sei visto insomma fino alla mezz'ora del secondo tempo ecco una partita in cui Rizzone comunque l'ha fatta da padrone. Infatti è proprio quello, cioè nel senso che è quello che il rammarico è che tu hai fatto la partita a 360 gradi, quindi mi dispiace anche per le ragazze perché loro ci hanno messo tanto impegno, però dobbiamo imparare che a volte bisogna dare quel pizzico in più ancora quando ci sono le avversità, quando succede qualcosa di differente da quello che è la normalità. Una partita è solo imprevedibilità e quindi dobbiamo essere pronte anche all'imprevedibile. Se vuoi fare quel salto in più. Però ripeto, io sono dispiaciuto per loro perché ci tengono tanto, durante la settimana vanno, e bisogna che andiamo di più, ma tutti quanti, tutti quanti. Cioè quello che è il rammarico è proprio dire dopo 90 minuti, 94 minuti così, porti a casa zero punti, bisogna che siamo incazzate, giustamente incazzate ma motivate a domenica prossima a portare a casa punti.